ciao ragazzi allora è l'ultimo giorno qua in sardegna ed è anche l'ultimo giorno di filmati che ho fatto qua col mio dji mavic mini e posso a questo punto posso umilmente dire dire la mia su alcune cose del mavic mini allora io l'ho usato tantissimo non tanto quando ero a casa ma qui in sardegna tantissimo l'ho usato con la trasmissione manuale 2,4 l'ho usato in 5,8 l'ho usato in automatico ho provato con le antenne posizionare eccetera però ragazzi bisogna dirla tutta bisogna dirla e sottolinearla maggiormente sta cosa perde il segnale continuamente o sono sfigato io o è sfigato il mio drone o sono in una zona dove ci sono particolari interferenze però anche quando era a casa lo perdeva il segnale e quindi nulla da dire sul sul drone per quanto riguarda i comandi il collegamento la fluidità dei movimenti la precisione nell'atterraggio nel return to home e anche ho dovuto anche cambiare le eliche perché mi ha segnalato una avaria le eliche quindi l'ho fatto atterrare immediatamente e una volta atterrato l'elica danneggiata comincia a vibrare ti fa capire quale elica devi cambiare quindi è veramente una cosa una cosa fantastica però bisogna dirla tutta e ragazzi il segnale lo perde io non ho mai fatto un video senza che si perdesse segnale una due anche tre volte ho provato in tutte le salse non so più come come fare ed è fastidioso è fastidioso perché qua ci sono panorami fantastici un esempio volevo fare la panoramica della costa che è bellissima qua quindi fai alzare il drone una certa altezza e poi cominci sul suo asse verticale a farlo girare inizia a girare va bene tac e qua perde il segnale e cosa succede io all'inizio tenevo le levette continuamente la levetta di sinistra per farlo girare continuamente azionata e cosa succede continua a filmare e quando riprende il segnale si porta immediatamente il video si porta immediatamente nella posizione in cui si sarebbe dovuto trovare il drone se non avesse perso il segnale e il risultato qual è? il risultato è che viene un video che all'inizio arriva bello fluido poi c'è l'interruzione quando riprende il segnale di colpo viene e sembra che tu abbia fatto un video che volevi riprendere il passaggio della formula 1 perché gira talmente veloce e viene una schifezza e quindi per limitare i danni cosa cosa sto facendo io? allora mentre inizia la panoramica quando si interrompe dovete guardare lo schermo del telefono si ferma vuol dire che si è interrotta la comunicazione la trasmissione col drone però l'avviso non vi arriva subito vi arriva dopo 2-3 secondi però quando vedete che si ferma l'immagine mollate tutto tutte le levette dopo 2-3 secondi arriva il segnale radiocomando non connesso pipì popò in alto a destra in rosso poi dopo riprende il segnale e riazionate le levette e ricontinuate e se si interrompe un'altra volta fate ancora la stessa procedura fino a che finite il vostro filmato che desideravate fare e il video come verrà quindi verrà la prima parte bella fluida poi si vedrà che si interrompe ma continua a filmare anche se aveva perso la connessione continua a filmare dopodiché riprende bello fluido e via così fino fino alla fine il problema è che poi devi prendere tutto il filmato devi tagliare la parte dove si è interrotto e ricongiungere le due parti buone con la dissolvenza è un po fastidioso sarebbe meglio che venisse bello fluido tutto il tuo filmato stessa cosa sul fiume volevo fare proprio da 2-3 metri d'altezza dall'acqua farlo farlo andare in avanti poi piano piano farlo salire ho provato mentre saliva pam e perde il segnale e rifai la cosa pam e riperde il segnale è un continuo non ho mai avuto un video senza perdita di segnale ma anche di 2-3 volte e quindi ragazzi secondo me questa cosa va sottolineata maggiormente si sapeva che il mavic mini perdeva il segnale ma non mi aspettavo così boh non lo so però per il resto è perfetto è un drone entry level per chi vuole affacciarsi in questo mondo va benissimo è perfetto come ho detto come ho detto all'inizio però dopo un po se uno vuol fare dei video a me piace fare i video paesaggistici e quindi mare montagna paesaggi eccetera non che arriva al national geografica a bussarmi alla porta che vuole i miei video e per l'amor di dio mi diletto in questi in questi video però mi piacerebbe farli in una certa una certa maniera e chiaramente se continuo a farli quindi sarò costretto ad acquistare il modello superiore dove non c'è questo inconveniente di perdite di segnale quindi perdite di segnale c'è inutile girarci intorno è ok va bene ciao ragazzi ciao da Renataus e iscrivetevi al canale ciao ciao